una bambina di soli sei anni. Queste due donne sono rispettivamente la moglie e la figlia di un dissidente kazako, oppositori al regime dittatoriale del Kazakistan, per una presunta poi non confermata da due sentenze del Tribunale di Roma e del Tribunale di Riesame di Roma, vizi nel passaporto. Le due donne sono state trattenute in uncie e nell'arco di soli tre giorni sono state rimpatriate nel loro Paese in spregio e in violazione dei diritti umani e delle norme presenti nel nostro Paese. Il Governo ha dimostrato grande conflittualità nella gestione e grande incapacità nella gestione di questa vicenda. Noi con questa interrogazione le chiediamo due cose. Primo, di fare chiarezza nella gestione che il Governo e nel conflitto che vi è stato tra i Ministri nella gestione di questa indecente vicenda. Secondo, le chiediamo se, quanti e quali sono i casi di immigrati clandestini presenti nel nostro Paese rimpatriati e espulsi nell'arco di tre giorni. Grazie. Prego, Presidente del Consiglio, a facoltà di rispondere. Grazie. Al collega Molteni e al collega Giorgetti che hanno presentato questa interrogazione voglio rispondere così. I fatti a cui si riferisce l'interrogazione avvenuti, come è stato detto dal collega Molteni tra i giorni 29 e 31 maggio scorsi, tra Casal Palocco e il CIE di Ponte Galeria, sono stati oggetto nelle ultime settimane di varie ricostruzioni giornalistiche, nonché di primi accertamenti amministrativi e giurisdizionali. Il contrasto tra le une e gli altri fa emergere evidenti punti di contrasto, rendendo ineludibili ulteriori approfondimenti. In particolare, sembra trasparire un evidente stacco tra la correttezza formale dei vari passaggi in cui si è articolato questa intricata vicenda e crescenti interrogativi sostanziali che ruotano attorno ai tempi e ai modi attraverso i quali si sono sviluppati gli avvenimenti. Gli interrogativi da sciogliere quindi ci sono e appare del tutto legittimi che essi vengano posti e soprattutto naturalmente che trovino le risposte dovute, in primo luogo nelle sedi istituzionali, tanto più in un Paese come il nostro, massimamente attento al funzionamento pieno di tutte le prorogative dello Stato di diritto, un Paese che vuole garantire al tempo stesso diritti e sicurezza. Il coinvolgimento nella vicenda di una minore, inoltre, rende il tutto ancora più delicato. Per questi motivi ho disposto un'accurata e articolata indagine interna alla quale stanno lavorando in modo pronto e collaborativo i Ministeri e tutte le istituzioni dello Stato coinvolti. I risultati di questa indagine interna saranno resi noti al più presto al Parlamento e alla pubblica opinione perché, voglio dirlo molto chiaramente, non saranno tollerati ombre e dubbi. Presidente Letta, la sua risposta non ci soddisfa completamente. È evidente l'imbarazzo suo e del suo Governo alla luce di come è stata gestita questa vicenda. Le ricordo che due donne sono state espulse, sono state rimpatriate, vi sono state e sono emerse delle chiare posizioni di conflittualità tra membri del suo Governo, bene il fatto che lei voglia fare luce e voglia fare chiarezza su questa vicenda. Rimane il fatto che, con riferimento invece alla... Grazie.